buongiorno a tutti quanti dio ci benedica oggi volevo fare questo filmato del mio giardino di quest'anno 26 maggio 2022 quello che il signore in questo momento ci ha dato in quest'anno che la gloria del signore sia sempre in eterno che dio benedica tutta l'umanità di non abbandonarsi mai perché dio da sempre una possibilità a chi ha fede a dio attraverso gesù e questo è un grandioso miracolo che dio fa a chi veramente sta seguendo la sua parola per la gloria sua che la gloria del suo figlio gesù cristo quello che vi chiedo è di non abbandonarvi mai quando avete qualcosa inginocchiatevi e pregate gesù mettendo tutto ai piedi di gesù e gesù provvederà a portare tutto al nostro padre celeste dio d'amore e con questo voglio ringraziare il signore per quello che lui ha fatto in questi lunghi anni nella nostra vita e nella nostra casa venite dietro alla preghiera padre santo dio d'amore nel nome del tuo figliolo gesù cristo oggi vogliamo venire a te attraverso il tuo figliolo gesù cristo ai suoi piedi dando ti onore gloria e maestà per tutto quello che tu hai fatto e che farai in questi giorni attraverso tutto quello che tu vorrai grazie padre grazie per questo nuovo giorno grazie per l'amore grazie per la salute e grazie per la prosperità che tu darai sia a me alla mia casa alla mia famiglia e tutto il mondo intero signore metto tutto nelle mani del tuo figliolo gesù cristo con gioia e con amore sapendo sicuro che gesù oggi trasporterà immediatamente ogni cosa a te grazie padre nel nome di cristo gesù che tu l'hai benedetto in eterno amen bene cari nella grazia adesso vi farò vedere il mio giardino che dio ci benedica amen adesso ve lo faccio vedere globalmente sono dei giardini è una valle meravigliosa in questo momento vedete che ci sono delle fave piselli cipolle acce albere di giregio che stanno portando molto frutto alberi di pruno pere mele questa è la famosa barracca che vi ho presentato altre volte ci sono altre barracche c'è il gioco dei bambini ecco ci sono anche gli altri giardini ve li faccio vedere altre barracche ogni lotto c'è la sua barracca queste sono piselli che stanno fiorendo vedete che sono belle le fave vi invito ad assaporarli anche che siamo a distanza di chilometri anche che siamo a distanza di chilometri vi invito a assaporarli sono bellissimi io ho tanta gioia nel cuore vedendoli soltanto vedendole mi riempio il cuore vedete quanto ce ne hanno ecco questo è un albero di pruno queste sono zarche che già stanno facendo il seme zarche lattuche queste sono le famose ciliegie regina si stanno maturando c'è da qualcuna che già sta avendo del rosso fra qualche settimana due incomincerò a mangiare ciliegie ce ne sono moltissime lattuche rossa quelle sono tutte fave questo è fagiolino vedete quando ce n'è tutto fagiolino questo è albero di pruno cipolle acce questo è un albero di fico vedete c'ho anche le fico quelle nere e quelle bianche ve li farò vedere fra poco fave fave questo è un albero di ciliegio vedete ce ne sono tutte le qualità queste quelle è un po' piccolino ma sta portando anche frutto gloria a Dio questi sono cipolli sempre qui ci sono i ceci ceci tutto il filagno è di ceci quest'albero grande è di noce guardate com'è grande è circa 25 metri alto o 30 metri massimo ci sono noce per tutti vettucche rosse albero di pruno dove vedete queste bastoncine è tutto seminato piselli fave che dovrebbero uscire fra qualche settimana in produzione perché ha piovuto adesso quest'anno abbiamo avuto una grande siccità adesso il signore ci ha dato questa possibilità che ha piovuto e in questa settimana l'altra affioriranno ogni bastone che ci è messo è seminato vedete tutti questi bastoncini che vedete sono tutti buche seminate che uscirà qualcosa Dio volendo anche qui abbiamo fagiolino vedete che è uscito questa settimana qui c'è un altro albero di fico questo è fico nera vedete è piccolino ma nei prossimi anni porteranno frutto Dio volendo qui ho seminato tutto piselli dove vedete tutte queste bastoncine a filagno sono piselli che dovrebbero uscire in questa settimana dato che è piovuto quella è un albero di olive c'ho anche l'olivo è piccolino ma ecco ho sistemato il proiettore ecco ecco Queste sono fragole, sono già affacciate le fragole, presto mangerò anche le fragole, questi sono ceci, albero di pruno e albero di pere, adesso ve lo mostrerò più vicino. Ceci, piselli, queste sono patate, ho anche le patate, piselli e patate, albero di pruno, ecco, queste sono pere, albero di pere, vedete già c'è il frutto in maturazione. Ecco. Perfetto, questi sono altri alberi, altri giardini, ve li mostro. Ecco, albero di pruno, cipolle, carote, queste sono carote, fiori, ci sono anche fiori. Vedete quante cipolle? Patate, la zona verde. Quante cipolle ci sono a pomodori, questo è un tunno, ce lo mostrerò da dentro. qui sono tutti, stappo uno, ve lo faccio vedere, in maturazione. ecco, vedete come sono grandi, vedete? ci sono diversi tipi, vedete, questa è quella rossa, quella è quella bianca, vedete? ecco, guardiamo, cipolle, vedete, 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 vedete? vedete, 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 vedete. che si stanno affacciando. Questo è un altro albero di figo bianco. Alberello di pruno. Questo è un altro albero di ciliegie. Vedete che c'è anche frutto. Quest'anno hanno portato tutto il frutto gli alberi che ho seminato diversi anni fa. Guardate com'è alto. Già è in produzione. Vi faccio vedere più da vicino. Ecco. 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 Perfetto. Questo è un altro albero. Ecco. C'è anche il frutto. Questo è il pruno dolce bianco. Ecco. Sono tutti in produzione. Fave. Ua. C'è tutto. Tutto alla gloria di Dio. C'è tutto. Questi sono tutti. Se vi dovete fare l'insalata potete. Vedete come sono grossi. Tra poco. Purtroppo andranno perduti. Ce n'è una marea. Una marea proprio ce n'è. Guardate. Tutto questo. Sono tutti uguali. Tutto. Questa zona. E beverò il seme. Che ci posso fare. Ma se siete nei rintorni. Avvicinate. Ve li posso offrire gratuitamente. ecco. C'ho anche la cucuzza. Ecco. Questa è la cucuzza. Quella lunga. Per fare la pasta. Con cucuzza lunga. Per fare la pasta. Lo spezzatino. Ecco. Questo è tutto seminato. Dove ci sono tutti questi bastoncini. Deve uscire. Fave. Piselli. Tutto. Ciceri. Tutto seminato. Settimana prossima escono fuori. Perché ha piovuto. Ceci. Carote. Queste. Sono cucuzze. 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 Fragole, tomato, pomodori, 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 cipolle, fragole, fave, fave, cipolle, qui dove ci sediamo all'ombra quando fa caldo, tavolino, cipolle, guardate quante sono belle, stanno incrociando. Cipolle, cipolle, tumore, fave, cipolle, fracolino, cammino, criolle, guadale, Fragole, cucuzza lunga, ho messo dentro una grasta grande, cucuzza lunga, ecco. Ho anche finocchi selvatici, fragole, queste quasi mature. Fragole, fave. Fragole, qui ho i finocchi selvatici. Fragole, fave. 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 Patate, farve, 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 origano, ho anche l'origano, non mi manca niente perché ciò che chiede al Signore lui me lo dà, questa è la mia forza nel Signore. Patate, vedete, con il Signore, farve, 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 Cotugno, questo è un albero di Cotugno, se dovete fare la mermellata, io non ne uso mermellate, si perdono tutti, potete venire qui e fate la mermellata a settembre. Questo è un albero di Pluno, guardate che grande. Grazie. 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 Questi sono mele, albero di mele, sono in produzione, stanno diventando rosse. Il Signore ci sta benedicendo. Guardate com'è carico, anche che è piccolino, ma è carichissimo di mele. Gloria a Dio, fragole, vedete come sono grandi le fragole. Troccoletti, calchiello, tavoli. Questo grande albero è un albero di pruno, quello settembrino, quelli lunghi. Vedete, già si vedono che sono lunghi, vedete come sono lunghi. Guardate che grande. E ora si deve mangiare tutti questi frutti, potete venire, ve li offro gratuitamente. Dio merita e io vi dono. Gloria a Dio, gloria a Gesù. La prenombra, quando il sole è forte. Guardate che staggevo, guardate il corso, guardate il corso, guardate il corso. Questo è un altro albero di Bruno. Grazie per la visione. Cicoria per mantenere gli indestini buoni e puliti. Queste sono cucuzze lunghe. Nel tunnel ci sono i maloni. Tra poco le trappianterò il petrosino. Cicoria. Un po' cucuzze, citrioli, peperoncino, fragole. Fagiolino. Fagiolino lungo, quello di sfalto. Cicoria. Albero di ciriegie, grande. Guardate quanto è grande. Albero di pesche. Guardate quanto riguarda il petro. Cicoria. Cicoria. Fave. Cicoria. 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 Cioccia. Cicoria. Cicoria. Queste sono le pesche, guardate che è caricato, quest'anno ho promesso di farci il lavaggio ogni settimana e sembra che stanno maturando perfettamente bene, sperando che nessuno li disturba gli insetti o altro. Questa è l'altro burro in mella. Quest'altro è un albero di mela pure, ci sono già i frutti. Pruno, albero di pruno. Ora cogliere l'acqua dal tetto. Ora cogliere l'acqua dal tetto. È un paradiso terrestre. Albero di pruno, piselli, tomate, pomodori. Patate. 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 Cipolle, ciliegie, guardate che grande è quest'albero di ciliegie, quante ce ne sono. Chi se le deve mangiare? Glorie a Dio, alleluia, pesche, pupuzza, zucchine, fragole. Guardate quando c'è una pesca in quest'albero, è molto caricata, ciliegie. Glorie a Dio, alleluia, gloria al Signore. Qui c'è un altro albero grandissimo di ciliegie, ce ne sono due, uno dolce e c'è la marema, si vede questo piccolino di qua, è la marema, ma è molto caricata, chi soffre di diabete li può mangiare benissimo, albero di ciliegie, la marema, questa è la marema, guardate che è caricata, la marema, questo piccolino, invece questo grande albero è ciliegie, guardate che ha, salto, gloria al Signore, alleluia, gloria al Signore, tutto caricato, la tempesta, gloria al Signore, alleluia, gloria al Signore, alleluia. E' un po' di giardino, quello mostro di montano, ecco. pomodoro e lampicante, pere, albero di pere, puma, guardate quanti alberi che ci sono, tutti fruttiferi, quest'anno il Signore ci sta benedicendo mele, azzucchina, azzucchina, tragole, petrosino, giochini, cavoli, tragole, Rivali. Fico, vedete, fico nera, già c'è il frutto. Tomate, tomate. ok Zucchini Tomate Tomate Zucchini Tomate Zucchini Eccola Yokei ne? Patate Noce, finocchi, cipolle, acce, pezzemolo, zarchi. Quanti bei alberi di frutto. Il Signore ci ha benedetto quest'anno, anche che la siccità, guardate queste pesche, sono già belle grosse, bellissime, guardate che sono grosse. Il Signore ci ha benedetto quest'anno. Sarà stata la siccità magari, perché gli alberi ci soffrono quando c'è molta acqua, si ammalano. Comunque, non possiamo dire niente, perché brutta è la siccità e brutta è molta acqua. Ma il Signore sicuramente ci benederà ancora più migliori nei prossimi anni. Queste ciliegie, di sottotitoli di do di di Grazie a tutti. Grazie, grazie mio Dio, grazie mio Gesù. Grazie per ogni cosa che tu fai per noi, tuoi figlioli. Ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo per tutta l'eternità. Amen. Alleluia. Tomate, zucchine, peperoncino. Tomate, buccia longa, latuga. Grazie a tutti. Grazie. 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 i pomodori, patate, già sono in fiori i pomodori. Questi pomodori sono quelli ingannati che non sono in alto. Bruno Settembrino Melenzane Melenzane Peperoncino Peperoni Tomate Patate Zucchini Zucchini Mele Mele Patate Zucchini Posso Pomodori Cavoli, Sparicello, Broccoli, Zucchini, Aglio, Cipolla, Fragole, Cipolla, Zucchini, Pomodoro, Albero di Pesca, Grandissimo, Caricato, Guardate quanto è grande, Questo è un albero di ciliegie, è grandissimo, meraviglioso, Mi faccio delle mangiate che mi diverto, Questo è albero di pruno, quello giallo, dolce, Guardate che alto, Anche questo è albero di pruno dolce, giallo, Guardate che, Grazie. Qui c'è la zucchina. La sto proteggendo del caldo che sta facendo in questi giorni. Vedete. Tomate. Tomate. Zucchina, quella lunga. Zucchina, quella lunga. La proteggo dal troppo caldo che sta facendo. La sta esparaggendo. Zucchina, zucchina, zucchina. La lunga. Cipolle. 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 Giochine. Patate. Cipolle. 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 Carote. E patate. Carote. Trattata. Cipolle. Cipolle. Tomate. Cipolle. Cipolle. Tepero. Tepe. Pruno settembrino, bello caricato, gloria a Dio. Dopodomani o domenica devo fare il lavaggio dappertutto. Ogni settimana faccio il lavaggio in tutto il giardino. Ecco questo è l'albero anche di pruno. Pruno. Ecco. Pruno. Pruno. Questa è figo. Quella nera. Albero di pruno. 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 di pruno, albero di pruno, guardate che è caricato, guardate che è grande. Edgett, mail it, mail it. Il gioco dei bambini, queste sono pere, meravigliose pere, sono tutti in maturazione, guardate che grande e quante ce ne sono, posso saziarmi solo con la frutta. Glorie a Dio, glorie a Dio. Pruno, albero di pruno, questo è albero di pesche, guardate che è caricato. Meraviglioso. L'uva. Ciliegie. Fragole. Questa me la mangio. Bellissima. Glorie a Dio. Questa me la mangio romane. Questa me la mangio romane. Questa me la mangio romane. Questi sono tutti semi di broccoli, cavoli, sprecello. Stiamo facendo i semi per l'anno prossimo. Un po' molore. Un po' molore. Li proteggo dal caldo. E un po' molore. Questa ci sono i sottowegeloni. anding con laإbracare. Jawi, normally fallate. Questa è Lo pariamo. P Yeso e ora. Errata di caldo. O perché Sì Bene Ci riserebbe ancora ma Io non ho più tempo Di mostrarvelo tutto Ma tutto va alla gloria di Dio Gloria al Signore Il Signore ci ha benedetti Adesso voglio pregare Per ringraziare il Signore Per quello che ha fatto Per noi Padre Santo Dio d'amore Nel nome di Cristo Gesù Ti voglio ringraziare Ti voglio lodare Ti voglio benedire Per tutto quello che tu hai fatto Ancora oggi Per tutti noi Benedici tutta l'umanità Padre Fai che ogni ammalato possa guarire Fai che ogni ammalato possa trovare la grazia La forza Di essere assistito da te Padre Grazie Padre ancora Che puoi svegliare tutti quelli che sono in goma E dargli la possibilità Di guarire E di essere Ancora Piene di vitalità Grazie Padre Per questo che tu fai Ti ringraziamo Padre Nel nome di Cristo Gesù Il Santo Che tu hai Benedetto In eterno Amen Gloria Signore Ora Giro La camera Cari nella grazia Di Dio e di Gesù Oggi vi ho mostrato Ciò che il Signore Ha dato Ai Suoi figlioli Chi Lo Prega Dio Gli dà possibilità Di Essere Santificato Aiutato Sostenuto Nella grazia Sua Nella grazia Del suo figliolo Gesù Cristo Questa è una grande gioia Per me Oggi Dirvi Inginocchiatevi Inginocchiatevi Alla presenza Del suo figliolo Gesù Perché potete Usufrire Di tutto Quello Che il Signore Vi darà Adesso Mi sono seduto E voglio dare Alcuna informazione Globale Informazione Che Potrebbero Aiutarvi Io ho Un sito In internet Che E' Nominato Ed è famoso Si chiama www.gesulalucedelmondo.it Digitando questo sito www.gesulalucedelmondo.it Troverete tutto quel materiale Che avrete bisogno Per evolversi In Cristo Gesù Per guarire Per essere sanato Non perché Questo sito È mio Ma è guidato Dallo spirito Di Dio E di Gesù Io sono Uno strumento Nelle mani Di Dio E di Gesù Tanto Che Mi ha nominato Servo Dell'Eterno Questo Nome Meraviglioso Ne sono fiero Di essere un servo Dell'Eterno In più Altre informazioni Entrando nel mio sito Troverete Nel primo link La foto Di un Un cifo Che Si aprono Moltissime foto Della Chiropratica Darmstadt Rheinheim Rheinheim Darmstadt Fra cui La dirigo Io Personalmente Questo link È E si tratta Di Chiropratica Digital Pressione Rilassamento Muscolare E mentale Chi soffre Anche Di atrosi Cervicale Ernia disco Lombare E di qualsiasi genere Che è In difficoltà Nel corpo Può Telefonarmi O Scrivermi In whatsapp Prendere un appuntamento Anche che in distanza Può vedere E provvederò E provvederò Con l'aiuto Del signore Di fargli Alcune Terapie Che Ha di Bisogno Vi Dico che Già dal primo Inizio Della terapia Avviene Un miglioramento Globale Globale Si avverte Già Un inizio Di Beneficio E Proseguendo Troverete La salute Io ho messo Alcuni video Nella pagina Per poter Voi capire Ciò che Sto Cercando Di Inserire Nei vostri Cervelli Nelle vostre Menti E nel vostro Essere In più Un'altra Informazione Tutto Questo Che Vi sto Dicendo E Tutto Gratuito Si Richiede Soltanto Alla fine Di ogni Seduta Di ogni Beneficio Un' Offerta Di ogni Di ogni Soltanto Di ogni Soltanto Di ogni